Allora, questo pezzo fa parte di un assieme piccolino che ho dato come compito e dunque comunque le misure partendo, in pratica non avevano le misure, avevano l'assieme però nell'assieme avevano già segnati i componenti commerciali e dunque comunque attraverso il disegno con la scala e sapendo le dimensioni dei commerciali si può dedurre tutte le dimensioni. Naturalmente dunque c'era grossa libertà anche sulla scelta delle dimensioni però io dico su un foro come si fa a mettere la distanza da qui a qui 34,58? O si mette 34 o si mette 35? Ma andiamo a mettere sui centesimi? Ripeto, qua non può, non ha senso andare a mettere sui centesimi, caspita, lasciamo o 34 o 35, cioè cerchiamo di, vado a quotare 34,58? A mio avviso non ha senso, faccio 35, costringo ad andare a misurare, ripeto, a mio avviso non ha assolutamente senso, scelgo io, non vado a scegliere 34,58, vado a scegliere o 35 o 34, al massimo al massimo vi dico 34,5, non ha senso perché comunque scelgo io, uso i millimetri, vabbè ci vediamo alla prossima vi faccio